Punto Impresa Giovani, un nuovo servizio che verrà erogato da Informa Giovani in collaborazione con Confartigianato Imprese al fine di consentire ai giovani interessati all'artigianato di accedere a consulenze specializzate provenienti dal mondo delle imprese. Proprio attraverso uno sportello che verrà attivato presso la sede di Piazza Sant'Agostino di Informa Giovani Arezzo sarà possibile sostenere idee e progetti di imprenditoria che provengono dai giovani. L'informa Giovani sta diventando sempre di più un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze di Arezzo anche e soprattutto per la ricerca del lavoro e lo sviluppo di un percorso professionale e individuale. Quindi ampliamo, abbiamo 10 progetti che sostengono i giovani, dai giovani in ETA ai giovani per il servizio civile. Abbiamo numerosi progetti, implementiamo il servizio con un'altra attività, quella insieme alla Confartigianato per dare consulenza ai giovani che vogliono intraprendere un percorso in questo mondo. Una collaborazione con il Comune all'interno dello sportello Informa Giovani in cui tutti i giovani che ritengono avere delle domande, delle iniziative e queste cose qui possono fare riferimento e dove a livello completamente gratuito possono avere delle risposte. L'associazione e la struttura copre sostanzialmente quasi tutte le richieste perché le figure e le capacità non mancano, quindi la disponibilità è massima quindi è solo la questione di avere la fantasia dei giovani ad avere delle domande.